Credenze sbagliate che girano, informazioni che girano riguardo le malattie a trasmissione sassuale, per esempio, è la convinzione che alcune infezioni riguardano solamente o il sesso femminile o il sesso maschile. Tipica è la convinzione che la candida la possono avere solo le donne. Questo è sbagliato, perché le infezioni possono avvenire sia nell'uomo che nella donna. La differenza è per esempio che nella donna possono essere più sintomatiche, quindi dare più segni della loro presenza rispetto all'uomo e soprattutto la donna si sottopone più frequentemente a dei controlli di tipo ginecologico anche per una semplice visita di controllo o per qualsiasi piccolo dubbio di infezione.